Si apre alla Biblioteca Città di Arezzo l'anno accademico della scuola Corradini con il concerto di uno dei giovani talenti chitarristici del nostro paese. Testimonia d'eccezione Carlotta Dalia, la 17enne che ha vinto decine di concorsi a livello nazionale e internazionale. L'appuntamento è per sabato 1 ottobre alle 17. Sarà una bellissima esperienza sicuramente suonare in un posto così affascinante come Arezzo in questo bellissimo chiostro. Il programma prevederà due sonate di Domenico Scarlatti, una corrente di Bach tratta dalla sequinda suite francese per Clavicembalo, il gran solo di Fernando Sor, quindi iniziando con un periodo barocco come Scarlatti e Bach per passare poi appunto all'Ottocento con Sor, un pezzo come il gran solo quindi che si ispira molto alla tradizione orchestrale del periodo per poi affrontare i brani di Mario Castelnuovo tedesco come la sonata Maggio Boccherini e il capriccio numero 18 dai Capricci di Goia. E quindi quest'ultimo autore fiorentino del Novecento, quindi un periodo più nuovo rispetto agli altri, neoclassico comunque molto orecchiabile soprattutto in un autore toscano quindi è sempre un piacere suonare brani di autori della nostra terra. E' un'iniziativa che è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione, qui con noi il Presidente e il Professore Alessandro Artini e ci fa senz'altro piacere rendere fruibile alla città questo bello spazio con un'iniziativa culturalmente importante.